Buonasera ragazzi, benvenuti qui al Bridge Extreme Festival, che dire, una gran serata, gran DJ set, com'è andata? È una grandissima festa, è una cosa mai vista sul ponte di Belluno, un evento strano, un evento unico, unico, bellissimo il pre-party di sotto. Oltretutto diciamo che voi rappresentate la situazione Mini Club. Mini Club, una situazione alternativa, molto particolare, che nasce a Udine, da ragazzi che comunque già lavorano nei locali, grazie al mio socio, il DJ Emanuele M. Buonasera Manuel. Buonasera, buonasera. Cosa dire, complimenti ai ragazzi, soprattutto. Sono stati molto bravi, anche perché un paestro del genere non è tanto voluto in Italia, perché la collaborazione tra partner, tra promoter, club, spesso non esiste, quindi questo è davvero un bel evento e speriamo continui. Speriamo ancora di riavere situazioni Mini Club con noi, no? Grazie. Quindi incrociamo le dita. Incrociamo le dita, ringraziamo il comune di Belluno. Bravissimi. Grazie a tutti, insomma, anche a Gian Pietro, a tutto lo staff di Belluno. Ho detto uno staff enorme, perché ho visto un sacco di gente con le magliette, quindi che dire, veramente è una grande organizzazione. Ragazzi, io vi ringrazio, questa è Miss Matilda Blog Channel. Noi rappresentiamo Mini Club, arriviamo da Udine. Ragazzi, F, Mini Club, un saluto. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie a tutti.